Lo sapevi che in passato Becky Lynch ha lavorato anche come hostess di aereo? The Man lo ha fatto per la Aer Lingus, una compagnia con base in Irlanda, per la quale ha prestato servizio per circa due anni e mezzo raccogliendo l'eredità della madre che in quel periodo stava abbandonando l'azienda. Poi a decollare è stata la sua carriera, non prima di aver imparato il Muay Thai in Thailandia, ripreso gli studi come attrice, frequentato il college e trovato impiego come stuntwoman.